Il territorio di tanti artisti che vengono ad onorarci. La commissione è preseduta, purtroppo è dovuto andare via perché era accompagnato da altre persone, è dovuto rientrare a Roma, è preseduta da uno storico dell'arte che si chiama Monsignor Pietro Amato che più che altro si interessa di pittura ma si interessa anche di ceramica. Monsignor Pietro Amato ha fatto diverse biennali della ceramica, l'ultima a Paola nel 2016 ma molte di queste biennali le ha fatte a grottaglie con tanti artisti anche della ceramica. Monsignor Pietro Amato ha stilato un piccolo verbalino che io vi leggo partendo dall'estemporanea che abbiamo fatto ieri. L'essenzialità della figura è la pulizia di un'atmosfera estemporanea percepita come luogo di sensazione pone quest'opera in situazioni di privilegiata attenzione. Il decorativo apparente delle farfalle segna la dimensione di un'aspirazione dei giovani e di un nuovo rinascimento visivo dove la figura domina nel genio di una tavolozza segnata da contorni essenziali. L'opera è stata realizzata da Rosalba Di Chiara viene premiata con una medaglia d'argento fatta con i ari appositamente per la manifestazione dalla CNA di Benevento. Grazie. 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 Angela, vieni qua, vieni qua, vieni qua. I protocolli sono questi. Grazie. Prima di passare all'opera vincitrice del concorso, è stato un mese in esposizione, sono 35 opere che sono state in esposizione al nostro museo, permettetevi, vi rubo due minuti semplicemente per nominare le persone che hanno partecipato perché mi sembra anche corretto nei confronti delle altre persone. Maria Paonella, Antonella Luss, Cinzia Gaudiano, Ida Ferrante, Rosa Di Frodo, Concetta Di Cecca, Carmen D'Ambrosio, Agnese Contaldo, Angela Cialeo, Rita Cafaro, Maria Bondonno, Alessia Borrillo, Dorota Admska, credo che sia, non so di quale parte della Jugoslavia, credo croata, Anna Maria Lavornia, Giustina Figlia, Natascia Sales, Alessandra Torricelli, Rosalia Zuccaro, Elena Perrelli, Francesca Pietrantoni, Pietrantoni Strazzullo, credo che sia in sala, prego, Maria Grazia Lupo, se ne andate? Rosa Ferrante, Benedetta Del Monaco, Noemi Caradente, Noemi Caradente, Emilia Balestrini, Grazie, E' Rosalba Di Chiara, a cui non abbiamo dato il diploma prima, a cui non abbiamo dato il diploma prima. Grazie. 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 Grazie a tutti. di stato d'animo che trovano un punto di incontro nell'atteggiamento di volti sollevati carichi di significati di densa tensione. Questa opera ci tengo a dirvi che è di una ceramista novella, questa signora che si chiama Adriana Ferri e che io ho contattato alle ore 5 perché la commissione si è riunita alle ore 4 quando un signore amato prima di andare via ha slato questo documento, io ho contattato il di Salerno, lei chiaramente è scoppiata a piangere perché non si aspettava di ricevere un premio dicendo guarda io faccio ceramica da pochissimo tempo di solito io faccio pittura e le amiche mi hanno trasportato nel mondo della ceramica per cui io ho fatto quest'opera e un'altra amica che partecipava a San Lorenzello l'ha spinta a partecipare con quest'opera dicendogli guarda che è un pezzo molto bello partecipare e giustamente io gli ho detto noi non teniamo conto di un curriculum artistico perché nella ceramica la ceramica è forse a differenza della pittura è proprio questa la sua caratteristica non ha bisogno di per forza di avere un grande curriculum lei è stata brava nel saper dare un'armonia a queste forme che ha messo insieme e a questo vaso che è di forma diciamo moderna ma che riecheggia moltissimo diciamo delle figure delle figure classiche io mi dispiace che abbiamo dovuto affrettare la chiusura l'ho fatto perché benedetta del monaco e di grottaglio benedetta del monaco un giorno penso saremo costretti a dargli la cittadinanza di San Lorenzello perché è più le volte che sta tra San Lorenzello e Cerreto e domenica scorsa era anche a Caserta per buongiorno ceramica che insomma si vede che oltre ad avere e a rispettare gli amici si vede che il nostro territorio vi piace molto io vi invito per la manifestazione di settembre noi a settembre alla fine di settembre facciamo una manifestazione nazionale della ceramica che si chiama dalla terra all'arte nel commento dei carmelitani con la speranza di riaprire questo benedetto commento dei carmelitani dove dovrebbe collocarsi il futuro museo della ceramica che in questo momento teniamo in un contesto un pochino più ridimensionato speriamo di riuscire a fare una manifestazione adeguata con tanti ceramisti che vengono da tutta l'Italia e che lasciano il loro dono tutto quello che fanno e anche quello che portano molte volte in questo modo noi abbiamo costituito un museo della ceramica che tra mille difficoltà va avanti dal 1994 grazie a un'associazione che fondano insieme a quel signore che sta là in fondo che fa le fotografie e tanti altri amici di San Lorenzello che hanno sempre tenuto a cuore le sorti della ceramica e che vorrebbero che San Lorenzello città della ceramica avesse una sua radice storica in un museo della ceramica. Io vi ringrazio tutti e ringrazio soprattutto le ceramiste che sono state pazienti che sono venute ieri che ci hanno onorato che gli abbiamo sottratto tempo e che magari oggi stasera di corsa dovranno tornare a casa perché domani è lunedì tutti dobbiamo lavorare e tutti abbiamo dei libri. Grazie